L'Orsa, il Comitato Pendolari dello Stretto, Dimensione Trasporti e la Lega delle Autonomie Siciliana lanciano all'allarme sulla metromare. Non vi è infatti alcuna certezza sulla proroga del servizio in scadenza il 28 giugno. Le risorse economiche annunciate dal Ministero potrebbero non essere sufficienti e secondo i sindacati e le associazioni dietro l'angolo c'è una grave crisi occupazionale e la sospensione totale del traghettamento veloce o comunque una riduzione fino al 50% dei collegamenti. Il Governo ha annunciato nelle scorse settimane una proroga fino al 31 dicembre ma in cassa ci sarebbero soltanto 3 milioni di euro. Se le risorse dovessero essere così esigue ci ritroveremmo di fronte a un nulla di fatto e all'ennesima dimostrazione dello stato di abbandono in cui è da tempo relegata l'area dello stretto. Denunciano l'Orsa e i comitati che paventano un ulteriore scadimento qualitativo e quantitativo della metromare già adesso incapace di soddisfare le esigenze delle migliaia di pendolari che ogni giorno attraversano le due sponde. Seguendo i parametri del vecchio bando per i sei mesi di proroga dovrebbero essere corrisposti alla consorzio metromare 6 milioni di euro ovvero il doppio di quanto a disposizione anche in virtù delle recenti modifiche relative agli oneri fiscali e al costo del lavoro. I pendolari e gli oltre 60 dipendenti sono pronti a forme eclatanti di protesta in caso di interruzione del servizio assicurano Orsa, Comitato Pendolari, Dimensione Trasporti e Lega delle Autonomie. Necessario un maggiore impegno del vettore pubblico che ha dismesso gran parte dei servizi precedentemente offerti e un nuovo bando che garantisca per i prossimi anni tracchettamenti veloci e funzionali. Sindacati e associazioni indicano le loro priorità. Un aumento del numero delle corse, una modulazione degli orari, il reperimento delle risorse per la realizzazione degli approdi di papardo e annunziata necessari per il polo universitario, il completamento definitivo del progetto della metropolitana del mare e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.